Bentornati, in questa nuova lezione continuiamo l'esplorazione dei modificatori che Blender ci mette a disposizione. Abbiamo visto nella scorsa lezione che cos'è un modificatore, abbiamo poi utilizzato il modificatore Array. Andiamo a vedere adesso il modificatore Bevel. Questo modificatore applica una smussatura a tutti i bordi delle mesh. In questo caso al cubo di default è stata applicata a tutti i suoi bordi e andiamo a vedere adesso quali sono le diverse opzioni che ci vengono messe a disposizione. La prima cosa che ci viene dato di scegliere è se applicare questa smussatura ai vertici oppure agli spigoli della geometria. Per default è selezionata questa seconda opzione. Proviamo a fare clic su vertici per vedere la differenza. In poche parole, se selezioniamo vertici, la smussatura viene applicata esclusivamente nel punto dove ci sono i vertici. Lo possiamo vedere all'interno dell'Edit Mode. Mentre se applichiamo la smussatura agli spigoli viene applicata sia lungo tutti gli spigoli sia nella posizione dei vertici. Se scendiamo all'interno delle varie opzioni troviamo la tipologia dell'Offset. L'opzione Offset ci indica la quantità di spostamento dei nuovi spigoli rispetto all'originale. Questa quantità è gestita dal parametro successivo. Ad esempio, anziché 0.1, se proviamo a impostare 0.2, vediamo che la smussatura diventa molto più ampia. Ovvero la distanza tra lo spigolo originale e il nuovo spigolo è diventato 0.2. Il secondo parametro che ci viene messo a disposizione invece è il numero di segmenti che andrà a creare la smussatura. Per default il valore è pari a 1, facciamo una prova aumentando questo valore e vediamo che l'effetto diventa sempre più arrotondato perché all'aumentare dei segmenti aumenta anche la quantità di dettaglio che ci viene messo a disposizione. Bisogna stare molto attenti al numero che utilizziamo durante la modellazione perché non sempre avere un numero alto di segmenti è necessario e soprattutto in scene molto articolate rischiamo di appesantire molto il lavoro del computer. In più, se applichiamo lo Shade Smooth vediamo che cambia poco se abbiamo 9 segmenti oppure ad esempio 4. Andiamo ora a vedere invece quali sono le altre tipologie di calcolo dell'offset. Abbiamo Width, la larghezza. È un parametro che ci permette di stabilire quant'è la larghezza di questa smussatura. Quindi non più la distanza tra lo spigolo originale e il nuovo spigolo ma la distanza tra i due nuovi spigoli. Quindi se impostiamo 0.1 andremo a misurare che da questo punto a questo punto c'è 0.1 metri, cioè 10 centimetri. Se impostiamo 0.5 la distanza aumenta e così via. Stesso discorso per i segmenti. All'aumentare dei segmenti aumenta la quantità di dettaglio che va a definire la curva. Abbiamo poi Depth, la profondità. E come dice la descrizione stessa va a definire la distanza perpendicolare tra lo spigolo originale e la faccia della smussatura. Percent, la percentuale, indica la distanza tra lo spigolo originale e i nuovi spigoli creati dal modificatore in forma percentuale, quindi in proporzione alla lunghezza dello spigolo. Facciamo una prova, vediamo che lo spigolo diventa molto più piccolo, dobbiamo avvicinarsi di molto per vedere l'effetto perché stiamo parlando dello 0.1%. Se applichiamo invece un 5% torniamo a visualizzare una smussatura simile alla precedente. Fate più prove che potete ovviamente. Rimane sempre valido il numero dei segmenti. Infine, Absolute ci consente di impostare invece la distanza tra questo spigolo e lo spigolo originale. Per farvelo vedere, se volete fare un esperimento, potete applicare il modificatore con CTRL A, quindi inserire un nuovo cubo, impostiamo lo snap ai vertici, selezioniamo il comando Measure, misurazione, e andiamo a misurare tenendo premuto il tasto CTRL da qui a qui. Vedete che abbiamo 0.2%. In realtà questo sembra essere identico all'opzione di default, tuttavia la differenza la vediamo quando abbiamo delle smussature tra facce non perpendicolari tra loro. Fate anche in questo caso degli esperimenti se volete approfondire l'argomento. Bene, abbiamo visto le tipologie che ci consentono di definire la modalità di applicazione dei valori amount e segment, ma prima di proseguire vorrei farvi notare un errore che fanno in molti. Ne abbiamo parlato anche nel corso base, però penso che valga la pena ripeterlo. Partiamo momentaneamente con una nuova scena, con il nostro cubo di default, e scaliamolo ad esempio lungo l'asse X. Quando andiamo ad applicare il modificatore Bevel, otteniamo uno strano risultato. Vediamo che mentre la smussatura lungo questo spigolo è esattamente come ce l'aspetteremmo, la smussatura invece lungo gli spigoli del lato corto hanno un'inclinazione anomala. Questo difetto è dovuto alla scala del cubo. Andiamo a vedere all'interno delle proprietà dell'oggetto, vediamo le sue dimensioni, ma vediamo che lungo l'asse X il cubo è scalato di 3.328, un numero a caso. Quindi, quando andiamo ad applicare un modificatore, che può essere Bevel, ma può essere anche qualsiasi altro modificatore, Blender considera questo oggetto ancora come se fosse un cubo, ed è per questo che ci troviamo queste distorsioni indesiderate. Il sistema per eliminare questo problema è quello di applicare la scala. Con CTRL A andiamo a richiamare il comando APPLY. APPLY che cosa? Che cosa andiamo ad applicare? Applichiamo la scala. Ecco che adesso il nostro parallelepipedo è davvero un parallelepipedo, anche per Blender. Infatti il suo fattore di scala è pari a 1 anche sull'asse X. E quindi adesso il modificatore Bevel viene applicato in maniera coerente lungo tutti i suoi spigoli. Proseguiamo ora a vedere il parametro successivo che è LIMITMETHODE, cioè il metodo per limitare l'applicazione di questo modificatore. Per default non c'è nessun limite, quindi il comando Bevel viene applicato a tutti gli spigoli o a tutti i vertici della mesh. Tuttavia noi abbiamo la possibilità di dire a Blender di non applicare proprio a tutti gli elementi questa modifica. Uno dei parametri discriminanti è l'angolo. Possiamo dire a Blender che tutto ciò che ha un angolo inferiore a 30 gradi non deve essere smussato. Facciamo una prova. Qui abbiamo un parallelepipedo, quindi tutti gli angoli sono di 90 gradi. Entriamo in Edit Mode. Selezioniamo ad esempio questo spigolo, quindi lo spostiamo lungo l'asse Y andando a variare l'angolo tra la faccia superiore e la faccia laterale. Vedete che a un certo punto l'angolo arriverà vicino ai 30 gradi e quindi il Bevel non verrà più applicato. Vedete che a questo punto, ecco adesso, il Bevel non è più stato applicato. Perché l'angolo che c'è tra il piano orizzontale e questa faccia è diventato minore di 30 gradi. Quindi Blender adesso sa che in quel punto, siccome le facce sono, diciamo, più complanari rispetto alle altre, non ha molto senso applicare una smussatura. O comunque noi gli abbiamo detto che non ha molto senso applicare la smussatura. Possiamo provare ad esempio ad utilizzare una mesh un po' più complessa, ad esempio la famosa testa di Suzanne, alla quale andare ad applicare il modificatore Bevel. Proviamo anche in questo caso ad applicare una limitazione angolare e vediamo come ad esempio all'interno dell'orecchio non è stata applicata nessuna smussatura. Perché queste facce sono più complanari rispetto alle altre. Ovvero l'angolo che viene formato tra i due piani è inferiore ai 30 gradi. Un altro metodo di limitazione per il Bevel è quello chiamato Weight. Ovvero possiamo andare a impostare per ogni singolo spigolo un determinato limite. Selezioniamo la prima mesh per fare un esempio, entriamo in Edit Mode, selezioniamo uno spigolo, ad esempio questo, quindi con il tasto Ctrl E andiamo a richiamare il menu Edge. Troviamo il comando Edge Bevel Weight, selezioniamolo. Quindi vediamo che si è formato una specie di tratteggio che collega il cursore del mouse allo spigolo selezionato. Osserviamo in alto a sinistra che compare il valore Bevel Weight, che in questo caso è 0. Proviamo a spostare il mouse allontanandoci dallo spigolo. Vedete che questo valore aumenta. Impostiamolo per esempio attorno a 0.5. Oppure scriviamolo nel tastellino numerico 0.5 e premiamo Invio. Usciamo adesso da Edit Mode, andiamo a cambiare da Limit Method Angle, andiamo a mettere Weight e vediamo che adesso la smussatura è stata applicata esclusivamente a questo spigolo ed è stata applicata per un 50%. Andiamo a selezionare un altro spigolo, ad esempio questo. Di nuovo con Ctrl E andiamo a richiamare Edge Bevel Weight. Qui per esempio impostiamo un valore pari a 1. Usciamo di nuovo da Edit Mode e possiamo vedere che mentre qui la smussatura è applicata al 50%, quest'altro punto invece è applicata al 100%. Facciamo un'altra prova ancora da quest'altro lato, Ctrl E e impostiamo un valore pari a 0.1. Ecco che vediamo appunto le differenze di applicazione. Quindi noi possiamo andare a selezionare spigolo per spigolo e andare a dire a Blender di quanto da 0 a 1 deve essere applicato il modificatore Bevel. Infine abbiamo la possibilità di limitare il modificatore Bevel a un gruppo di vertici. Facciamo una prova con la Susanne, entriamo in Edit Mode, selezioniamo un po' di vertici giusto per fare una prova e andiamo a creare un gruppo di vertici. Facciamo clic su più, Assign, assegniamo i vertici a questo gruppo. Quindi torniamo in Edit Mode, andiamo ad applicare il modificatore Bevel in base al Vertex Group. Andiamo a indicare che vogliamo il gruppo che abbiamo appena creato ed ecco che adesso il modificatore Bevel è applicato esclusivamente a quei vertici che fanno parte del gruppo che abbiamo appena creato. Questo ci permette di avere un grandissimo controllo perché potremo andare a impostare diversi gruppi di vertici e selezionare successivamente quelli che ci interessano da applicare al modificatore Bevel. Questo metodo di applicazione lo troveremo anche in altri ambiti. Torniamo alla nostra scena iniziale, applicando il modificatore Bevel al cubo di default, quindi andiamo a vedere che cos'altro ci viene dato a disposizione. Abbiamo la possibilità di definire il profilo della nostra smussatura. Per default abbiamo Super Ellipse che è il profilo standard che, come possiamo vedere aumentando il numero di segmenti, viene a formarsi applicando il modificatore Bevel. Questa è una curvatura che può essere sia esterna che interna. Infatti se spostiamo il valore di Shape da 0.5 verso lo 0 vediamo che la curva viene fatta all'interno, mentre se lo spostiamo verso l'esterno questa curva tende a diventare uno spigolo molto più vivo. Oppure abbiamo la possibilità di personalizzare completamente la forma di questa nostra smussatura selezionando il pulsante Custom. Vediamo che compare questo grafico, vediamo l'analogia che c'è tra questo spigolo e questa linea, proviamo a cliccare col mouse e a tracciare un movimento. Guardate cosa succede quando lascio il mouse. Vedete? La smussatura ha preso l'andamento della curva, quindi posso aggiungere più punti e questi andranno a influire sulla smussatura. Ovviamente in questo caso è molto importante avere un numero alto di segmenti per poter avere un effetto pulito, ordinato. Facciamo una prova, aumentiamo di molto il numero di segmenti, li troviamo anche all'interno del grafico, quindi noi per ogni singolo segmento possiamo andare a definire il comportamento di questa smussatura. Le possibilità creative di questo tipo di modellazione sono davvero enormi. abbiamo poi una serie di preset che vi invito a sperimentare e abbiamo poi queste due opzioni Sample Straight Edge e Sample Even Length che vanno a influire in particolare nel punto di congiunzione tra gli spigoli. In particolare la prima opzione vediamo ha un'influenza sulla maglia che si viene a formare all'incrocio di questi spigoli, viene creata in forma più regolare, mentre la seconda opzione va a modificare invece proprio l'andamento anche della posizione degli spigoli lungo i bordi, perché in pratica va ad aggiungere il numero di segmenti necessari per eguagliare il numero di punti di controllo, a seconda della distanza tra questi. È un concetto magari un po' difficile da spiegare, però in generale per avere un risultato migliore è bene avere un buon numero di suddivisioni in numero di segmenti. Anche in questo caso vi invito naturalmente a fare quanti più sperimenti possibili. Oltre ad agire sul profilo abbiamo la possibilità di agire sulla geometria. Per renderci conto meglio di quanto nel dettaglio abbiamo la possibilità di scegliere certi tipi di particolari nell'applicazione del modificatore Bevel, utilizziamo questo esempio particolare. Questa è una figura geometrica che viene proposta anche nel manuale online di Blender, che ci aiuta proprio a capire le differenze geometriche che si vengono a formare secondo delle opzioni che andiamo a indicare nella sezione Geometry. Questo è il modificatore Bevel che viene impostato per default. Notiamo in questo punto come la geometria viene modificata nel punto in cui gli spigoli vanno a incontrarsi tra di loro. Proviamo a modificare il primo menu a tendina, Meter Outer, che per default è impostato su Sharp. Ma vediamo che abbiamo la possibilità di scegliere anche Patch e Arc. Guardate la differenza. In particolare concentriamoci su questa zona. Vediamo che si forma proprio una diversa topologia delle facce che vengono create. Arc in particolare è quella che in questo caso io preferisco. Vediamo anche in quest'altro punto. Sharp, Patch, Arc. Ovviamente dipende anche dal tipo di risultato che abbiamo bisogno di ottenere. Per quanto riguarda invece Meter Inner, abbiamo solo due opzioni. Sharp, che è quella di default, e Arc. Andiamo a provare e vediamo la differenza. Sharp, Arc. Andiamo adesso a vedere invece l'opzione Intersection. Torniamo a definire un profilo personalizzato. Ad esempio, fatto in questa maniera, aumentiamo il numero di segmenti. Mettiamo un buon numero, ad esempio 50. E vediamo come, anche abbiamo visto prima, all'intersezione viene creata una griglia di spigoli. L'opzione Intersection ci consente di rebblender, se vogliamo appunto una griglia, per default è Grid Fill, oppure se vogliamo un'opzione chiamata Cut Off, che ci consente di tagliare la geometria in modo che risultino tre facce, o comunque il numero di facce equivalente di spigoli che si intersecano tra di loro, con appunto un taglio pulito, netto. Abbiamo la possibilità inoltre di disabilitare le opzioni Clamp, Overlap e Loop, Slide. La prima limita la larghezza di ogni bordo smussato, in modo che i bordi non possano causare intersezioni sovrapposte, con altre geometrie. La seconda, invece, quando attivate Loop Slide, in pratica se ci sono dei bordi non smussati, insieme invece a bordi smussati, lo smusso cerca di scorrere lungo quei bordi quando è possibile. La disattivazione di questa opzione può portare a larghezze di smusso più uniformi. L'ultimo gruppo, invece, di opzioni, Shading, influisce sui materiali. Questo è un argomento che non trattiamo in questo corso e che quindi magari andremo a rivedere più avanti quando parleremo di materiali in un corso più specifico. Bene, per questa lezione è tutto. Vi ricordo che potete trovare nella descrizione di questo video il link alle dispense. Vi invito, per chi non lo avesse già fatto, a iscrivervi al mio canale. Se avete piacere anche di ricevere un avviso quando vengono pubblicate le nuove lezioni, potete fare clic sulla campanella. Come sempre, vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto.